Quando il corpo poi dopo non sta bene, difficilmente uno riesce a vivere bene, anche se abbiamo le condizioni materiali che vadano bene, anche se uno come famiglia e rapporti umani va bene, anche se mentalmente uno è abbastanza stabile, se il corpo non sta bene, difficilmente uno riesce a star bene. Quindi è molto importante prendere cura bene del corpo. Un altro aspetto sono le risorse materiali, che sono quelle che utilizziamo per affrontare le varie situazioni e anche lì è importante avere un minimo necessario, riuscire ad avere un po' di stabilità dal punto di vista materiale, quella è un'altra cosa che ci aiuta. Poi ci sono i rapporti umani, tutte le persone intorno a noi che ci sostengono, che ci aiutano a poter avere delle persone verso cui noi ci possiamo fidare, che a loro volta possono fidarci di noi. Quindi avere questi rapporti di fiducia sono molto importanti anche. Mi ricordo anche uno studio che era stato fatto sulla felicità. In questo studio una delle cose che avevano trovato che portava più felicità alle persone era avere rapporti umani sani. Quindi al di là del fatto di ricchezza, al di là del fatto di salute e tutto questo, uno dei punti che aiutava le persone a star bene ed affrontare diversi tipi di situazioni era avere rapporti umani sani. Ossia rapporti umani dove uno ha fiducia, uno sa di poter chiedere aiuto, uno sa di poter fidarsi dell'altro con amore e amicizia anche. Questa è un'altra risorsa importante. Poi abbiamo diverse risorse. Tra queste risorse però, quella che secondo me è una delle più potenti di tutti è la nostra propria mente. È il modo interiore come noi andiamo poi ad affrontare le situazioni, come noi andiamo a vivere ogni cosa. E noi potremmo, per comprendere un po' meglio questa nostra risorsa, la nostra mente ha diversi aspetti, però possiamo dividerla anche in due aspetti principali. C'è una parte della nostra mente che vive più le sensazioni, no? E per sensazioni è ciò che noi percepiamo tramite i nostri sei sensi. Quindi abbiamo i cinque sensi, la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto, il tatto. E poi abbiamo il senso della mente, quindi che percepisce le nostre immagini mentali, ossia i ricordi, le proiezioni, i concetti, le immagini mentali. Quindi da questo, ogni volta che noi entriamo in contatto con qualunque oggetto di percezione, naturalmente abbiamo una sensazione. E questa parte di noi che percepisce le sensazioni è quello che percepisce il momento presente. Quindi la sensazione è sempre relativa al presente. Noi non abbiamo mai una sensazione di qualcosa che è avvenuto nel passato o di qualcosa che può avvenire nel futuro. Noi abbiamo la sensazione di un ricordo del passato o di una proiezione del futuro. Però l'oggetto che genera la sensazione è quell'immagine mentale di ricordo del passato o di proiezione del futuro, che sta avvenendo nel presente. Quindi la sensazione è qualcosa che è fortemente connessa con il momento presente. E questo è un aspetto importante per noi da ricordare. Poi c'è l'altra parte della mente che è quella più concettuale, che alcuni chiamano narrativa. È quella, è la parte della mente che principalmente si relaziona con i concetti, con il passato, con il futuro, con le idee. Quindi che rivive quello che è accaduto, che proietta sul domani cosa succederà, magari sarà così, magari sarà così, eccetera, eccetera. E in realtà, secondo me, così, butto un numero lì, circa 80%, se non di più, delle nostre sensazioni vengono tramite la nostra parte mentale. Noi viviamo molti più sensazioni di gioia o di sofferenza, che arrivano principalmente tramite i nostri ricordi del passato, le nostre proiezioni al futuro, concetti tramite i quali noi ci colleghiamo e così via. Quindi, una delle cose che è importante è che quando noi proiettiamo verso il futuro, o quando riviviamo il passato e così via, noi di solito, nel nostro modo naturale di essere, non siamo consapevoli di avere questi due aspetti. Noi non siamo consapevoli nella nostra quotidianità che c'è una parte di noi che percepisce le sensazioni del momento presente, c'è una parte di noi che proietta nel futuro e rivive il passato, è la parte più concettuale e così via. Noi semplicemente esistiamo e facciamo le cose, non riusciamo a distinguere queste due cose, no? Perché molto spesso, per esempio, se noi riuscissimo a connetterci con il momento presente, con la parte della sensazione, in realtà staremo bene. Perché non c'è nulla nel momento presente, dove ci troviamo, che ci faccia star male. Cosa succede però? Cominciamo a pensare, e se quello è così, ma cosa accadrà di là? E quello che sta succedendo di qua? E quello che va di là? Io sto parlando di oggetti mentali, perché gli oggetti dei nostri cinque sensi molto spesso vanno benissimo. Nella gran maggioranza delle volte, gli oggetti dei cinque sensi non ci danno fastidio. Quello che ci genera più conflitto, più paura e più sofferenza, sono gli oggetti mentali. Ok? Perciò, molto spesso la sensazione del presente, inteso come i nostri cinque sensi, va molto bene. Poi quello che succede è che noi cominciamo a aver paura del futuro, a proiettare cosa succederà, a rivivere le sofferenze del passato e così via, come conosciamo bene, no? E una delle cose che è abbastanza importante per noi è riuscire a prevedere un po' cosa accadrà. Noi sentiamo la necessità di sapere come andranno le cose per sentire una sorta di sicurezza. Ed esiste uno sperimento che si fa nelle università di psicologia e così via, che è uno sperimento che io il nome non me lo ricordo, che parla proprio di questo. Ed è un po' cattivo come sperimento, però fa vedere questo con chiarezza. Prendono dei topini, quelli del laboratorio, e si dà al topino, prima si vede, il topino è bello rilassato, normale, e si va a dare a quel topino un pochettino di acqua con zucchero. Ricordiamoci che lo zucchero non piace solo a noi, anche ai topini piace lo zucchero. Ok? È una droga, come sappiamo, su tanti aspetti. Quindi cosa succede? Il topino va lì, beve l'acqua con zucchero e gli piace. Con un contagocce viene dato un pochettino di acqua con zucchero. Dopo di un po', si ridà un'altra volta acqua con zucchero al topino. Il topino ritorna, prende l'acqua con zucchero, contento. E quello che si fa è che ogni tot minuti, si prende ogni cinque minuti, ogni dieci minuti, ogni due minuti, con una certa regolarità, si dà sempre con lo stesso intervallo l'acqua con zucchero. E dopo di un po' di volte che con lo stesso intervallo si dà acqua con zucchero, il topino comincia già, quando sta per scattare quell'intervallo, già ritorna per essere lì pronto per prendere l'acqua con zucchero. Le volte precedenti doveva vedere che era lì per riceverlo, no? Dopo di un po' di volte capisce che c'è una regolarità e quindi non appena sta per scattare quei due minuti, cinque minuti, il tempo che sia, il topino guarderà l'orologio, viene lì e va a prendere l'acqua. È lì che aspetta. Quindi il topino sa ogni quanto c'è. E va tutto benissimo. È contento e tutto il resto. Questo intervallo può essere di dieci minuti, può essere di mezz'ora, non deve essere molto breve necessariamente. Anche periodi leggermente più lunghi, lui capisce, ogni mezz'ora ritorna ed è sempre contento. A un certo punto viene la parte cattiva dello sperimento. Si prende e invece di mantenere la regolarità, dopo aver dato ogni mezz'ora per dire, ogni dieci minuti, quel che sia, si dà un po' di acqua. Poi si lascia passare trenta secondi, si fa un'altra volta. Poi altri venti secondi. Poi un'ora. Poi dieci minuti. Poi venti minuti. Poi quindici minuti. Poi trenta secondi. Poi dieci secondi. Si toglie la regolarità. E quindi si toglie la capacità di prevedere di questo topino. Il topino va a un livello di stress allucinante. Non sa più quando andare a cercare l'acqua con zucchero. Rimane lì quasi sempre aspettando e va a un livello di stress molto molto alto. In realtà il topino alla fine riceve più acqua con zucchero che prima. Ma il fatto che non è più prevedibile fa in modo che lui sta sempre lì aspettando, non sapendo mai quando deve arrivare. Perché quando era prevedibile il topino andava, faceva i fatti suoi. Quando stava per riscattare il periodo, ritornava lì e prendeva la sua acqua con zucchero. Quando non era più prevedibile, stava ogni momento lì aspettando quando arriva e non era mai sicuro di questo. Quindi questo è uno sperimento che noi esseri umani crediamo di essere così superiori, però funzioniamo nello stesso modo su tante cose. E anche per noi la prevedibilità, prevedibilità, adesso avete capito, è importante, noi ci sentiamo sicuri quando riusciamo a prevedere cosa accadrà e le cose vanno come noi prevediamo. Anche se quello che prevediamo non è bellissimo, però se riusciamo a rimanere all'interno di quello che noi riusciamo a immaginare e prevedere, in qualche modo ci dà più sicurezza che un'incertezza, anche più bella, però non è un'incertezza spesso. Quindi, ovviamente ci sono eccezioni adesso in vari livelli. Il punto che voglio arrivare è che noi molto spesso cerchiamo una sicurezza nel futuro. Noi ci svegliamo al mattino, abbiamo un'idea di che cosa dovrà succedere quel giorno, ci siamo scritti nell'agenda cosa dobbiamo fare, abbiamo un'idea di che cosa succederà, come sarà la giornata, come andrà la settimana. Noi ci programmiamo, che va bene. Però in questo programmare, se le cose seguono le nostre aspettative, il nostro programma, ci sentiamo di più al sicuro. Se le cose non seguono quello che noi ci eravamo programmati, quello che succede è che cominciamo a sentire che le cose sono fuori luogo, che le cose non stanno come dovrebbero. Basta vedere, prendi un appuntamento con qualcuno, la persona arriva con mezz'ora di ritardo. La generanza. Uno già rimane un po' male, no, ma io dovevo vederti alle due, come mai adesso sono le tre meno un quarto? Ma cosa hai fatto in queste 45 minuti? Hai perso il tempo? Sei stato lì a soffrire, sotto tortura? Hai altri appuntamenti dopo che quindi non riesci a mantenere, non c'hai più il tempo? No. Mentre ti aspettavo, ho fatto altre cose che mi è andato bene, però sei in ritardo. Quindi certe volte questo avviene perché? Perché abbiamo anche questa necessità di sentirci un po' al controllo della situazione. quindi cominciamo la giornata, la settimana, quel che sia, un lavoro, immaginiamo che sarà in un modo, perché va sempre così, poi non va in quel modo. E quando succede che noi cominciamo a avere più situazioni, o situazioni più importanti per noi, che vanno fuori controllo, molto spesso questo può generare un certo livello di stress. Io, una volta una persona mi ha spiegato una definizione di stress, che per me è stata abbastanza interessante, diceva che noi abbiamo una capacità naturale di consumare energia, quindi arrivare a un livello, diciamo, di stanchezza, poi noi possiamo rigenerare quelle forze un'altra volta e rigenerare la nostra energia. Quando succede che uno si stanca, ossia consuma la propria energia, e prima di riuscire a riprenderla, la consuma un'altra volta, e che non riesce a rigenerare le proprie energie, è quando uno entra in stress. E osservando, cos'è che ci genera stress? È la quantità fisica di lavoro? È la quantità di energia fisica che dobbiamo mettere nelle cose? È il tempo? O sono le nostre proiezioni aspettative, emozioni distruttive? Perché quello che accade, quello che ci consuma l'energia, più che altro, è la paura, è la rabbia, è l'invidia, è l'ansia stessa. E quando ci siamo con la gelosia, piuttosto che il rancore, o l'insoddisfazione, i conflitti in generale, quando abbiamo questi conflitti interni, quando abbiamo queste emozioni negative, consumano la nostra energia in un modo enorme. Perché se siamo gioiosi, in armonia, e c'è da fare qualcosa per dodici ore in un giorno, finiamo la giornata dove uno ha quella stanchezza sana del corpo, che c'ha voglia di dormire. E uno fa un bel sono profondo dopo essere stanco. Quando invece è una stanchezza dovuta non a un qualcosa di fisico, che uno ha fatto tante cose, ma una stanchezza dovuta al consumare l'energia con i propri conflitti, con i propri veleni mentali, e così via, uno fa anche fatica a dormire. Ok? E quando c'è questo tipo di stanchezza, questo gradualmente genera tantissimo stress, che poi genera ansia, e tante altre cose che credo che tanti di noi conosciamo bene. Perciò quello che accade è che quando viviamo un momento nel quale abbiamo incertezze, o nel quale le cose non sono come noi abbiamo previsto, come siamo abituati, questo molto spesso è un po' difficile da affrontare. C'è chi è più flessibile, c'è chi è meno flessibile, però diventa difficile. Ancora di più quando abbiamo una situazione di tensione, di conflitti, di sofferenza in generale, no? Ricordandoci anche che noi siamo esseri influenzabili, quindi noi ci influenziamo da coloro che sono intorno a noi, sia in modo diretto che in modo indiretto. Modo diretto, intendo dire, siamo influenzati da quello che sentiamo, da quello che vediamo, e in diretto, anche se io non ti ascolto, io non ti vedo, se siamo vicini e tu stai bene o tu stai male, in qualche modo mi influenzio. E così facciamo uno all'altro nella società. E noi siamo in questo esatto momento, in particolar modo qua in Italia, in generale, nel mondo, però in questo momento specifico anche qui in Italia, in un momento nel quale ci sono incertezze, nel quale le cose non avvengono come siamo abituati, ci sono delle cose che noi siamo abituati che per noi sono importanti, che magari prima non ci accorgevamo tanto quanto sono importanti, che in questo momento invece ci vengono tolte non per cattiveria, ma perché le condizioni non permettono. Quindi per me, per esempio, è molto importante il contatto fisico, una cosa che io vedo che io sono sempre stato così, quindi poter abbracciare, poter salutare, poter vedere una persona, guardarla negli occhi, poter trasmettere un sentimento di amore anche fisicamente, è una cosa che per me personalmente è molto importante. Io vedo che in questo momento questo non è possibile e quindi ovviamente questo porta a una certa difficoltà. Ci sono le abitudini che noi abbiamo di uscire, di andare ad altri posti, ci sono tante cose che sono le nostre abitudini che in questo momento non ci sono. Ci sono abitudini che aspetti che riguardano che non riguardano tanto le abitudini, ci sono preoccupazioni per la salute, ci sono preoccupazioni per quello che riguarda la parte economica, ci sono tanti livelli di preoccupazione che possono esserci. Poi c'è anche la tensione che uno sente delle tensioni e dei conflitti degli altri che è una cosa comunque presente. Si dice quando l'aria è densa. Poi ci sono giornate in cui si sente un po' l'aria un po' più densa, giornate in cui c'è una sorta di leggerezza nell'aria per dire. Questa è una cosa che si sente. Perciò io quello che stavo riflettendo che volevo condividere con voi oggi è quando ci troviamo in queste situazioni cosa facciamo? Il fatto che ci siamo mi sembra chiaro. Quindi cosa possiamo fare per affrontarlo meglio? Per me personalmente una delle cose che a me mi aiuta è quello di capire che le mie l'ansia l'attenzione la paura la sofferenza in questo caso viene principalmente dalla parte narrativa e non tanto dalla parte esperienziale perché io personalmente sto bene fisicamente io non ho nessun tipo di sofferenza che riguarda i miei cinque sensi al contrario sto benissimo ovviamente come si dice nella medicina tibetana una salute perfetta si ottiene unicamente quando uno ha eliminato totalmente la ignoranza e gli altri veleni mentali quindi qualche problemino c'è sempre però questo fa parte della normalità però io sto bene quindi io assolutamente non mi posso lamentare di nulla però io vedo che si creano delle preoccupazioni si creano tanti aspetti interiori che possono generare tensione che possono generare ansia e così via quindi in questo momento una delle cose importanti per noi è quello di ricordare che da dove sta venendo questa nostra ansia da dove sta venendo la nostra paura da dove sta venendo la nostra sofferenza il conflitto eccetera e cercare di osservare qual è l'oggetto e vedremo che molto spesso l'oggetto non riguarda quello che sta avvenendo con noi nel momento presente ma l'oggetto riguarda qualcosa del domani o un'incertezza perché le cose non sono come noi ci aspettiamo quindi una sorta di insicurezza e una delle cose importanti che in questa curva di stanchezza e dove riprendere le nostre energie noi dobbiamo creare se non altro è importante creare degli spazi dove uno può rigenerare le proprie energie qual'importanza di dormire bene perché uno può fare durante la giornata tanti problemi tante cose eccetera dopo una notte di sono di un buon sono uno si sveglia al mattino ah che bello mi sento bene e poi si riprende un'altra volta con tutte le menate tutte le varie cose eccetera eccetera uno può ripartire poi arriva stanco alla fine della giornata poi ridormi un'altra volta e così via però non basta anche perché quando uno è stressato quando uno ha paura quando uno ha ansia e tutte queste cose quello che succede è che anche il sono non è di un'ottima qualità perciò in questo momento in cui noi stiamo vivendo nel quale di questa pandemia c'è una parte che riguarda la parte proprio della salute delle persone che si ammalano c'è una parte difficile che riguarda la parte economica esiste anche un effetto collaterale forte che riguarda la salute mentale di tutti coloro che vivono questo momento sia di tutti noi e quindi dobbiamo prendere cura assolutamente di ogni aspetto tra cui anche quello mentale psicologico di riuscire a mantenere uno stato interiore di un minimo di equilibrio dobbiamo fare un pochettino di come si dice inner maintenance no? una sorta di manutenzione della pace interiore va fatto un qualcosina perché se no quello che succede è che un giorno dopo l'altro e i numeri crescono e c'è di qua e di là e passa un giorno una settimana due settimane io dico oggi che giorno è? mercoledì quando è che da quando siamo chiusi in casa? non so non è passata neanche una settimana ma sembra già un mese ma quanto tempo devo stare ancora e come farò e non ce la faccio e di qua e cosa succederà e o no comincia a entrare in tante cose perciò quello che diventa importante in tutto ciò è utilizzare degli strumenti che ci aiutino a comunque riuscire a dare quello spazio senza le tensioni per almeno rigenerare le nostre energie non sto dicendo che ognuno deve riuscire a stare in pace in ogni momento sarebbe chiedere troppo perché abbiamo le paure le ansie non riusciamo semplicemente a vivere il presente e far finta che non c'è nient'altro è molto faticoso però almeno riuscire a creare questi spazi dove rimaniamo con meno tensioni con meno ansia eccetera che ci permettono di rigenerare un po' le nostre forze e diminuire un po' l'ansia la paura eccetera e generare dei sentimenti positivi questo diventa veramente importante e dinanzi a questo diventa importantissimo fare durante sempre nella vita ma in questo periodo particolarmente fare delle cose che ci portino al momento presente e che mentre facciamo quelle cose i nostri pensieri non vanno al passato o al futuro riuscire a essere presenti nel presente uno degli strumenti più potenti che c'è in questo è la meditazione c'è la preghiera però ci sono tanti altri strumenti c'è l'arte non vedere l'arte però fare dipingere fare qualunque cosa che sia suonare cantare fare qualunque cosa che uno sta facendo qualcosa che come diceva un grande saggio che era professor Loketschandra che ancora in vita molto anziano però il professor Loketschandra diceva l'importanza di fare le cose cosiddette inutili le cose inutili sono fra quelle più importanti nella vita perché fare queste cose che sembrano inutili inutili nel senso che non vengono fatte per una ragione specifica io non faccio questo per produrre per vendere per far vedere per qualcosa io lo faccio perché è piacevole farlo perché è importante farlo per vivere quel momento non per qualcos'altro e questo diventa molto importante avere questi momenti avere i momenti nel quale possiamo leggere un libro che ci fa entrare in quell'universo e poter lasciarci andare no e una cosa però che è importante in tutto ciò è che queste attività devono essere possibilmente ma più che possibilmente devono essere attività proattive e non passive per attività passive è la televisione no dove quello che facciamo è metterci davanti a uno schermo piccolo grande che sia e rimanere lì no io sono expert in questo mi metto davanti a uno schermo io entro in stadio di concentrazione unidirezionale e rimango lì per giorni ma sono così da quando ero bambino non è una realizzazione recente è una realizzazione da quando ero molto piccolo anche per dire quando andavo in Tibet per studiare eccetera una delle prime cose che facevo entrando nell'albergo era togliere la televisione totalmente perché le prime volte mi sono accordo che accendevo la televisione tutto in cinese e rimanevo lì senza altri pensieri semplicemente vedendo così perciò ho detto questo non lo devo fare ok però che cosa succede è interessante perché questa attività è un'attività che da una parte tra virgolette ci rilassa perché non stiamo pensando ad altro non stiamo proiettando nel futuro nel passato eccetera però io non so spiegare bene il perché ma non essendo un'attività dove uno fa qualcosa dove uno è attivo in qualche modo ma uno rimane passivo ha un effetto molto 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 minore quando invece uno va che leggi leggere un libro piuttosto che dipingere scrivere cantare suonare fare una scultura fare qualunque cosa anche camminare per camminare fare qualcosa che non è cerchiamo di fare le cose indoor però quello che succede è che sono cose che comunque non vengono fatti per una ragione portano un bene incredibile ci aiutano a rilassare ed è come se tutte quelle informazioni che noi abbiamo vissuto le cose che abbiamo visto le preoccupazioni che abbiamo cominciano piano piano a organizzarsi dentro di noi per me una delle immagini che possiamo fare è come se dentro di noi ci fossero tutte le esperienze che abbiamo vissuto negli ultimi giorni e nei ultimi tempi più le proiezioni del futuro tutte queste cose fossero come dentro di noi tanti pezzi di tetris vi ricordate il tetris immagino più o meno tutti di sì però immaginate tutti i pezzi di tetris uno sopra l'altro non ben incastrati poi quando facciamo questi tipi di attività fra cui la meditazione è una delle in più eccellenti è come se andassimo a fare un movimento che piano piano permette i pezzi di incastrarsi bene uno con l'altro e vanno scendendo finché alla fine hanno un loro posto più o meno riescono a mettersi a posto e questo fa un bene interiore incredibile perché le cose non risolte dentro di noi emozionalmente nel passare dei giorni non è che si risolvono da sole dobbiamo fare qualcosa per quello e molto spesso abbiamo bisogno di creare lo spazio per digerire e per riuscire a risolvere non è un processo concettuale interessante che quando noi abbiamo delle difficoltà emozionali eccetera non è pensando in quella cosa in un modo costante che si risolve molto spesso è facendo qualcos'altro dove si va a creare quello spazio purtroppo abbiamo questo concetto spesso che noi dobbiamo produrre sembra che finisce la giornata io non ho fatto nulla fatto nulla non esiste da quando uno si sveglia quando si sveglia stiamo sempre facendo qualcosa però abbiamo questa necessità di dover produrre quando che da un lato va bene da un altro lato è un po' illusoria perché alla fine dei conti quello che rimane non è quello che abbiamo prodotto ma chi siamo diventati dinanzi alle esperienze che abbiamo vissuto non so se è chiara la differenza perché passa una giornata passa una settimana passa un mese c'è quello che io ho prodotto materialmente che posso far vedere al mondo digitalmente fisicamente quel che sia e c'è le esperienze che ho vissuto in quel processo e chi sono diventato io dinanzi a quelle esperienze e quella è la parte più importante in realtà è un po' come fare un mandala di sabie uno degli aspetti che il nostro mondo occidentale fa fatica a capire che quando si fa un mandala di sabbia meraviglioso poi quando finisce si dissolve il mandala si distrugge si fa la dissoluzione del mandala perché la cosa importante del mandala di sabbia non è il mandala di sabbia ma è il processo di farlo in realtà quando si fa un mandala di sabbia c'è la meditazione da fare prima c'è la meditazione da fare durante c'è la meditazione da fare dopo e il mandala è uno strumento per aiutare in tutto il percorso meditativo e la cosa importante non è l'opera d'arte del mandala in sé la cosa importante è il percorso che uno fa e molto spesso noi siamo attaccati al risultato esterno e non al percorso interno e quindi che cosa ci porta a quel percorso interno perciò questo per esempio ci aiuta a vedere che quando stiamo facendo qualcosa anche se la cosa fa bene funziona bene porta dei buoni risultati materiali cosiddetti concreti se per arrivare a quello io mi faccio del male e alla fine sono lì che ho tanto rancore paura eccetera non è andato mica bene se ci vuole più tempo o se la cosa non viene proprio in quel modo però riesco a viverlo diversamente eccetera e sto bene meglio che ben venga perciò quello che accade è che in questo momento io ritengo io ritengo che sia veramente importante per tutti noi dedicare del tempo di qualità per la meditazione per l'arte per fare le cose tra virgolette inutili ok in altre parole noi dobbiamo prendere cura del nostro stato interiore e una delle cose che ci aiuta tanto sono questi strumenti che ci permettono di creare questo spazio dentro di noi ci permettono di digerire e diluire in qualche modo permettono di decantare le nostre emozioni le nostre preoccupazioni le cose che noi viviamo perciò un po' di tempo fa credo settimana scorsa abbiamo parlato del fatto di trovare la certezza nella certezza dell'incertezza e di trovare il nostro rilassamento rilassarsi nella certezza dell'incertezza perché quello che accade è che noi molto spesso vogliamo che le cose vogliamo in qualche modo avere controllo e quando capiamo che il controllo reale non esiste quello che noi dobbiamo è vivere un giorno dopo l'altro nel meglio delle nostre capacità proiettandoci al meglio verso il futuro quello è poco ma sicuro comunque quando siamo in un aereo anche quando andiamo in macchina non è che ci vuole l'aereo una delle cose importanti per poter andare bene in aereo e non stare a preoccuparsi degli aspetti che si deve preoccupare il pilota perché se io entro in aereo e comincio a farmi tutti i problemi del pilota ma sarà che starà vedendo bene il posto dove si deve andare a posare l'aereo ma no è questo e ci sono troppe nuvole ma ci sarà abbastanza benzina per fare il tragitto che devo fare e di qua chi sono io che quale menate uno si può fare uno non riesce a rilassarsi anche perché non ha gli strumenti per poter capire quegli aspetti no quindi qual è una delle cose importanti per riuscire a rilassarsi in un volo fidarsi di chi ha il comando quello importante da un lato c'è da fidarsi di chi ha il comando e da un altro lato c'è da rilassarsi perché tanto noi non possiamo esserlo perché qua ci sono due aspetti no se io sono dentro un aereo a me mi è già capitato di stare facendo un volo e esserci tantissima turbolenza una volta in particolare stavo andando in Brasile o venendo dal Brasile non mi ricordo e a un certo punto c'era una turbolenza veramente molto molto forte ho già viaggiato tanto ho visto di tante cose ma quella era particolarmente forte quindi dopo aver sbattuto la testa sul soffitto un paio di volte quindi la cosa era già abbastanza tesa io ero molto ero rilassato agli inizi poi a un certo punto mi è venuto un attimo ho detto magari qualcosa può succedere no e lì ho semplicemente pensato ok perché no la morte è una certezza perché non può accadere è difficile che un aereo cada però può succedere è già accaduto molto più pericoloso andare in macchina se per quello però può accadere quindi io mi sono messo a pensare ok l'aereo può accadere sì e cosa posso fare io adesso vado lì e vado al cockpit tolgo il pilota e prendo io il comando uno non sono capace due non riuscirei neanche quindi cosa faccio io mi sono seduto e ho cominciato a fare la pratica del guru yoga la pratica di meditare nella propria mente come essendo inseparabile dal mente del guru e rilassarmi in uno stato interiore di pace di benessere perché ho pensato se io dovessi morire adesso cosa devo fare generare una mente pacifica e quella è la cosa più importante è che devo essere proattivo in un senso positivo ma riconoscendo cosa posso fare l'aereo sta per cadere riesco a trattenerlo in aria non ho quelle capacità quindi cosa faccio direzione la mia mente verso qualcosa di virtuoso e cerco di portare me stesso in uno stato di pace perché la cosa più importante per me è se dovessi morire in quel momento quindi questo è un esempio magari un po' estremo però quando noi ci troviamo in una situazione dove noi non abbiamo il controllo e il nostro raggio di azione è limitato noi dobbiamo vedere cosa posso fare io nel mio raggio di azione e oltre quello io mi devo fidare questo è importante e nella situazione che noi stiamo vivendo adesso di questa pandemia e così via per la gran maggioranza di noi cittadini o comuni ordinari come me il raggio di azione è molto limitato parlo della situazione generale a livello nazionale a livello mondiale eccetera eccetera anche a livello locale degli ospedali o di quel che sia quello che noi possiamo fare per cambiare le cose è veramente limitato il nostro raggio di azione riguarda le nostre proprie azioni nel relazionarsi con le altre persone eccetera eccetera perciò io personalmente ritengo di non voler utilizzare le mie risorse mentali il mio tempo il mio spazio interiore più che tempo il mio spazio interiore con problematiche che tanto vanno fuori dal mio raggio di azione io vedo che siamo lì in tanti a cercare di interpretare i numeri ma chi capisce qualcosa veramente ma anche se io facesse tutte le interpretazioni dei numeri dei malati degli infetti di qua e di là ma dove vuoi che io arrivi cosa vuoi che io possa fare quindi riconosciamo qual è il nostro raggio di azione e nel nostro piccolo possiamo fare tantissimo e fra questo in realtà è interessante perché più il raggio si avvicina più possiamo fare e di noi con noi stessi nel contesto in cui noi siamo possiamo far tanto e dobbiamo proteggere il nostro stato emozionale questo è molto importante dobbiamo proteggerci fisicamente a noi agli altri ma anche emozionalmente ed è per questo che diventa ancora più importante in questo momento meditare pregare recitare mantra studiare il dharma leggere un bel libro fare qualcosa che uno dove uno si trova bene come dipingere disegnare cantare suonare fare delle cose che aiutino noi a essere presenti nel momento presente aiutino noi a poter generare più spazio interiore anche purtroppo quando si cresce ormai abbiamo la tendenza che quando uno diventa adulto in qualche modo è come se non fosse più amesso a fare cose inutili è come se uno non gioca più non fa delle cose ludiche non fa delle cose che in qualche modo sono liberi da un obiettivo specifico di produrre o fare qualcosa per e quello che succede con questo è che in qualche modo c'è sempre questa tensione di dover fare per molto spesso quello che succede è che invece di avere questo aspetto di giocare di fare delle cose nell'arte di disegnare di fare delle cose belle quello che accade quando uno diventa adulto è che quando uno sta facendo qualcosa per produrre sta cercando di indursi ai piaceri sensoriali però mangiare una cosa con un buon gusto bere qualcosa con un buon gusto avere dei piaceri di qualunque genere del corpo nulla di contro però non hanno quella capacità veramente di portarci al momento presente di aiutarci a digerire le nostre emozioni e tutto il resto perché rientra nella stessa categoria simile a quella di cui dicevamo prima di guardare la televisione dove aiuta per far dimenticare momentaneamente quei nostri problematiche conflitti pensieri ma non fa quell'effetto interno di aiutarci veramente a digerire una persona che ha dei conflitti interiori bevendo tanto o mangiando tanto cibo buono o facendo tanto sesso non va a risolvere invece quando ci sono delle attività che aiutano la persona a generare spazio interiore quello ha questo effetto positivo perciò dobbiamo in qualche modo creare spazio nella nostra vita per fare queste cose ok perciò oggi volevo anche fare una meditazione tutti insieme perché parlare va bene però la cosa più importante è fare perché è importante per noi comprendere è importante per noi condividere però abbiamo anche bisogno di mettere la nostra propria pratica ok e una delle cose importanti nella meditazione è che quando noi cominciamo prima di tutto portando la nostra la mente al momento presente e il semplice fatto di permetterci di rimanere nel momento presente e di in qualche modo rilassarsi dalle distrazioni verso il futuro verso il passato d'altro già porta un profondo rilassamento perché nel momento in cui c'è paura nel momento in cui c'è tensione c'è preoccupazione c'è ansia qualunque cosa di questo genere la nostra mente in qualche modo rimane intrappolata rimane lì attaccata a questi oggetti e quando noi riusciamo di permetterci per un attimo per il tempo anche breve di molare un attimo quegli oggetti e riportare la nostra attenzione sul respiro già questo ha un beneficio enorme e va fatto un po' di volte al giorno la nostra capacità poi dopo di connetterci con qualcosa che per noi è prezioso che rappresenta qualcosa di sacro connetterci con uno stato di amore di soddisfazione di saggezza eccetera quello ancora di più importante ci aiuta ancora di più a riprendere le nostre energie ok purtroppo quello che accade spesso è che quando più serve è più difficile quando più ne abbiamo bisogno è quando meno riusciamo a mettere l'energia per farlo perché quando c'è più ansia quando c'è più agitazione quando ci sono più nervosini eccetera diventa più difficile ancora fare questo perciò proprio per questa ragione che dobbiamo creare lo spazio fisico temporale per meditare per pregare per fare delle attività io parlo da parte mia la meditazione però se qualcuno per esempio dice no io meditare non so fare non mi piace preferisco dipingere preferisco disegnare scrivere poesia va bene però facciamo qualcosa in quel senso importante anche importante in questo periodo non stare 24 ore sulla pandemia dobbiamo essere consapevoli di quello che sta succedendo dobbiamo agire nel modo più come si dice responsabile per noi e per gli altri poi una volta che facciamo quello che è il nostro raggio di azione dobbiamo rilassarci un po' e fare altre cose e non rimanere unicamente chiuso in questo anche se siamo chiusi in casa ok perciò adesso faremo un po' di meditazione sul respiro e poi dopo facciamo insieme la pratica dell'autoguarigione ok che è uno degli strumenti più preziosi che abbiamo è uno dei doni più grandi che l'amaganshin ha fatto a tutti noi quindi dobbiamo utilizzarlo dobbiamo approfittare al meglio utilizzarlo al meglio ok va bene su 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 Ci sediamo in una posizione confortevole, con la schiena dritta però non tesa. La testa leggermente in avanti, la bocca rilassata, gli occhi leggermente chiusi guardando verso il basso, la consapevolezza sul respiro. Porgiamo la nostra attenzione sulla sensazione alle narici dell'aria che entra e dell'aria che esce. Grazie. 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 Lasciamo che questi pensieri ci lasciano così come sono arrivati Ogni altro pensiero che sorge Semplicemente con dolcezza Riportiamo la nostra attenzione sulla sensazione alle naricce Dell'aria che entra e dell'aria che esce Grazie Inspiro 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 Inc Ondorano Inspiro Inspiro Grazie. Grazie. Il canale centrale è forte e i due canali laterali che affiancano il canale centrale sono più deboli, più sottili. Inspiro e spiro. Nello spazio davanti a noi sorge Guru Buddha, nell'aspetto del nostro Guru, inseparabile da tutti i Buddha, da tutti gli esseri sacri. Guru Buddha ci sorride. Grazie. 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 benedizioni per poter sviluppare le nostre qualità al loro massimo potenziale dai cinque chakra di guru buddha si emanano raggi di luce nettera di color bianco rosso blu giallo e verde che si assorbono nei nostri rispettivi chakra vedze parchen pal de lameshabla solvade OMA GORO VAJRADHARA SOMATEMUNI SHASANE KARMA UTAVARDHANYA SHRIBHADRA VARSAMANYA SARVASIDIHUM OMA GURU BUDDHASIDIHUM 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 dando la possibilità agli altri elementi di purificarsi purifichiamo il vento al chakra segreto il vento soffia purificando il fuoco all'ombelico il fuoco cresce purificando la terra al cuore la terra si scalda purificando l'acqua alla gola l'acqua si evapora andando verso il capo dove si condensa e scende per tutto il corpo come una pioggia di nettere purificando il corpo e la mente portandoci a sperimentare una profonda sensazione interna di beatitudine con la quale realizziamo in modo non concettuale il vuoto di esistenza intrinseca, la natura ultima di ogni fenomeno e yam ram lambam 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 shudeh shudeh svoha 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 e yam ram 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 shudeh shudeh svoha shudeh 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 svoha e yam ram 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 Om Swabhava Shuddha Sarva Dharma Swabhava Shuddha L'intero universo si dissolve in luce Il luogo in cui ci troviamo si dissolve in luce Nostro corpo si dissolve in luce Non c'è altro che un infinito vuoto luminoso Vuoto di esistenza intrinseca Inseparabile da una profonda beatitudine E io sono, noi siamo L'unione non duale di beatitudine e vacuità E io sono, noi siamo Dall'unione di beatitudine e vacuità Sorge l'universo Noi stessi Sorgiamo con un corpo puro Abbiamo un corpo di luce Con un canale centrale forte E cinque chakra Perfettamente equilibrati Al capo, alla gola, al cuore, all'ombelico E alla base della spina dorsale Cosiddetto chakra segreto In ognuno dei chakra sorge un fior di lotto Rappresentando i canali di energia sottili Che si incontrano in questo luogo Al chakra segreto sorge un fior di lotto Di 32 pettali Di color verde All'ombelico Un fior di lotto giallo Di 64 pettali Al cuore Un fior di lotto blu Di 8 pettali Alla gola Un fior di lotto rosso Di 16 pettali E al capo Un fior di lotto bianco Di 32 pettali Pam le pe ma jangu Pam le pe ma serpo Pam le pe ma ngompo Pam le pe ma ngompo Pam le pe ma ngompo Nei fior di lotto Sorgono le sillabe semi L'essenza delle nostre qualità L'essenza dell'energia Dei cinque guaritori supremi Al chakra segreto Al chakra del capo Sorge la sillaba semi OM Bianca Alla gola La A rossa Al cuore La HUM Blu All'ombelico La tram Gialla E al chakra segreto Sorge la sillaba semi RI Verde Om A HUM Tan Rhi Om A HUM Tan Rhi Oh A HUM Tan Rhi Om A HUM Tan Rhi Le silabe seme si trasformano nei simboli dei cinque guaritori supremi, rappresentando le nostre qualità che gradualmente si sviluppano. Al chakra segreto sorge un doppio vagera verde segnato dalla ri, all'ombelico un gioiello giallo segnato dalla tram. Al cuore un vagera blu segnato dalla hun, alla gola un fior di lotto rosso segnato dalla ha, e al chakra del capo sorge una ruota del dharma bianca segnata dalla om. Rie le natso dorje janko ri, tram le norbu serpo tram, hung le dhorje ngom po hung, A le pe ma mar po ah, om le kor lo kar po ah. I simboli si trasformano nei cinque guaritori supremi, i cinque diani Buddha, rappresentando le nostre qualità sviluppate al loro massimo potenziale. Al chakra del capo sorge il supremo guaritore Guru Buddha Veiro Chana, di color bianco con il mudra della saggezza. Alla gola Amitabha rosso con il mudra della concentrazione meditativa. Al cuore Akshobhya blu con il mudra della stabilità. All'ombelico Ratnasambhava giallo con il mudra della suprema generosità. E al chakra segreto sorge il supremo guaritore Guru Buddha Amogasiddhi, di color verde con il mudra della non paura. Om kor lo nam tse dorje, ape ma chö dorje, hung dorje mi kya dorje, tram nor burin chö dorje, ring na tse dorje, te yun dorje. Lama te yun dorje kin. Lama te yun dorje kin. Al chakra segreto, con le benedizioni del supremo guaritore Guru Buddha Amogasiddhi, di color verde con il mudra della non paura. Purifichiamo tutte le negatività relazionate al chakra segreto. Specialmente, purifichiamo totalmente ogni forma di paura. Eliminiamo totalmente la gelosia, l'invidia. E tutte le malattie relazionate al chakra segreto, nella forma di uccelli, Garuda, Verdi Scuri, fumo nero ed esporcizia. Riceviamo tutte le benedizioni del supremo guaritore Guru Buddha Amogasiddhi, nella forma di luce e nettare verde, che riempie il nostro corpo e ci porta la stabilità della certezza, il potere di realizzazione, la gioia per la felicità degli altri. L'aggregato puro dei fattori composizionali è la saggezza che tutto compie, ossia la certezza in ogni azione. Om Amogasiddhi, 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 al chakra dell'ombelico, con le benedizioni del supremo guaritore Guru Buddha Radha Sambhava, di color giallo, con il mudra della suprema generosità. purifichiamo tutte le negatività relazionate al chakra dell'ombelico specialmente purifichiamo l'arroganza l'avarizia materiale, spirituale e tutte le malattie relazionate al chakra dell'ombelico li purifichiamo nella forma di cavalli gialli scuri fumo nero ed esporcizia riceviamo tutte le benedizioni del supremo guaritore Guru Buddha Ratna Sambhava nella forma di luce e netta reggialo che riempie il nostro corpo e ci porta l'umiltà la generosità di dare materialmente di dare amore di dare protezione di dare il Dharma il sentiero spirituale la saggezza dell'equanimità e l'aggregato puro delle sensazioni Aum Aaratna Sambhavahum Aum Aaratna Sambhavahum Aum Aaratna Sambhavahum Lama Mikyo Dorje Kin al chakra del cuore con le benedizioni del supremo guaritore Guru Buddha Akshobhya di color blu con il mudra della stabilità purifichiamo tutte le negatività relazionate al chakra del cuore specialmente purifichiamo la rabbia il rancore il nervosismo l'ansia l'instabilità interiore la tristezza la depressione e tutte le malattie relazionate al chakra del cuore li purifichiamo nella forma di serpenti blu scure fumo nero ed esporcizia riceviamo tutte le benedizioni del supremo guaritore Guru Buddha Akshobhya nella forma di luce e nettare blu che riempie il nostro corpo e ci porta l'amore la compassione la pazienza la stabilità interiore la gioia spontanea l'aggregato puro della coscienza e la saggezza del Dharma Dato Oṁ Akshobhya Oṁ Akshobhya Oṁ Akshobhya Oṁ Akshobhya OM AXHO BYAHU LAMA CHODORJIKIN Al chakra della gola, con le benedizioni del supremo guaritore Guru Buddha Amitabha, di color rosso, con il mudra della concentrazione meditativa. Purifichiamo tutte le negatività relazionate al chakra della gola. Specialmente purifichiamo totalmente l'insoddisfazione, il desiderio illimitato, l'attaccamento illimitato, la parola violenta, la mancanza di concentrazione, e ogni malattia relazionata al chakra della gola, li purifichiamo nella forma di galine rosse scure, fumo nero ed esporcizie. Riceviamo tutte le benedizioni del supremo guaritore Guru Buddha Amitabha, nella forma di luce e nettare rosso, che riempie il nostro corpo e ci porta la soddisfazione, la concentrazione, la parola pura, l'aggregato puro e la saggezza del discernimento. Om Amitabha Om Amitabha Om Amitabha Om Am Amitabha Om Am Amitabha Om Am Amitabha del campo. Specialmente purifichiamo totalmente la ignoranza, la chiusura mentale, la mancanza di spazio interiore, la visione erronea della realtà di se stessi, la visione erronea della realtà del mondo e di ogni cosa. E ogni malattia relazionata al ciacca del capo li purifichiamo nella forma di maiali neri, fumo nero ed esporcizia. Riceviamo tutte le benedizioni dal Supremo Guaritore Guru Buddha Veiro Chana nella forma di luce in ettere bianco che riempie il nostro corpo e ci porta la saggezza, la corretta visione della realtà di se stessi e di ogni fenomeno, l'infinito spazio interiore, l'aggregato puro della forma e la saggezza chiara come uno specchio. Om Aveyro Chana Hum Om Aveyro Chana Hum Om Aveyro Chana Hum In un istante sorgiamo come Buddha Vajradhara, ossia in un aspetto totalmente puro, l'unione dei cinque diani Buddha, rappresentata dal mudra dell'abbraccio, con Vajra e Campana, rappresentando la perfetta unione di metodo e saggezza, di amore, compassione e saggezza, nell'equilibrio dell'energia maschile e femminile, rappresentando lo stato di Buddha. Metodo per equilibrare e sviluppare l'energia maschile del metodo e l'energia femminile della saggezza. Visualizziamo dal chakra del capo l'energia maschile del metodo che scende dal chakra del capo fino al chakra segreto all'interno del canale centrale. Poi l'energia femminile della saggezza, nell'aspetto più caldo, sale dal chakra segreto fino a raggiungere il chakra del capo. Successivamente le due energie, le due bodicite bianche e rosse, si uniscono al capo, alla gola, al chakra segreto, all'ombelico e alla fine si uniscono al cuore, dove tutta l'energia accumulata, si va ad assorbire. In ogni passaggio sperimentiamo una nuova sensazione di beatitudine, che realizza la natura ultima di ogni fenomeno, purificando così il corpo e la mente a livello sottile e molto sottile. O mani pe me hum, o mani pe me hum, o mani pe me hum ari, 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 Om Mahasukhahum 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 maaktu delekpe concho sum ki jingilom concho sum ki modrubutsol concho sum ki trashishom all'alba o al tramonto di notte o durante il giorno possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio Omoya Pishatze Parnaşavare Sarvatsavare Prashamana Yesu Ha 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 Om Pishatse Parnaishavare Sarvatzovare Prashamana Yesu 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 Qualunque essere malato ci sia, possa essi velocemente guarirsi dalla sua malattia. Possono tutti gli esseri vivere sempre liberi da qualunque malattia. Possano le medicine e i trattamenti essere efficaci. Possano le preghiere e i mantra di guarigione essere efficaci. Possano gli esseri che generano malattie come virus e batterie avere compassione di coloro che sono malati. In tutte le direzioni, qualunque corpo o mente, malato o sofferente che ci sia, possano essi, tramite il potere dei miei meriti, raggiungere un oceano di felicità e benessere. Sema chusudrua chua lamthudrua lamlaparche miyongvaraisho ai kya wakuntu yanda lamadam. Drami chukhi pe la lom chuchi, sadha lamgi yuntè rabzone, Dorche changgi kopa nyurthobisho ai nimo dele cendele, Nime kuyan delek shing, nincen taktu delek pe, Kuncho samke jhingilop, kuncho samke ngadrubca, Kuncho samke trashye yisho. Reshidele. Voglio ringraziare a tutti e solo chiedere per favore in questi giorni di dare continuità il più possibile alla meditazione, alla pratica dell'autoguarigione, alla recitazione dei mantra in modo di poter aiutare anche se stessi e anche quelli che ci stanno vicino, ok? Grazie a tutti